Sto registrando lì, papà, Ale, ti sto registrando, saluti. Sì, perché non ha appoggi, non ha agganci, che no. Non senti l'audio, senti, senti, no no, senti, senti, l'ho già provata. La mia sera è l'audio, l'audio va sempre. Ah, no no. Ehm. Hai messo in domondo? Oh, un bacino, Ale. Ci vediamo giovedì. Mamma mia. Diciamo. Io non ho neanche voglia di cucina niente, io non porto niente. Eh, voi ragazzi. Sì. Vai, io ti sto registrando. Come va? Dove? Per il campo? No, io voglio ritrovare. Ciao, ti sto riprendendo. Saluta la mamma. Saluta la mamma. Ciao. 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 Così ora mi hai visto in versione. Che nonna. Che sei? Ah, bravo. Eh? Chi sei? Io sono Marina, quella di ieri, ma non sono la mamma di Cosimo. Una collega della tua mamma, sì, e sono stata una collega della tua nonna, nonna Irene. Ciao, ciao. Ciao Maddalena, ciao, vado via, sì, ciao. Ciao Simone, grazie. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.